Musica Ancora ben trovati nuovamente in diretta, lo abbiamo letto in una veloce rassegna stampa matutina L'approfondiremo tra pochissimo, orrore all'interno della struttura sociosanitaria Donuva di Foggia Violenze e maltrattamenti su pazienti, 30 le misure cautelari eseguite dal comando provinciale dei carabinieri del capoluogo Dauno L'indagine è partita attraverso una notizia di reato assunta attraverso un'altra attività di indagine che aveva nulla a che fare con questo procedimento Maltrattamenti aggravati, sequestro di persona, violenza sessuale, favoreggiamento personale e danni di almeno 25 pazienti Un nuovo terremoto giudiziario ma soprattutto tanto orrore travolge la sanità e la comunità foggiana Sono 30 le misure cautelari eseguite dai militari del comando provinciale di Foggia nei confronti di altrettanti dipendenti della struttura sociosanitaria Donuva del capoluogo Dauno 15 tra operatori sanitari, infermieri e ausiliari sono stati arrestati e altrettanti sono stati raggiunti dalle misure cautelari dell'obbligo di dimora e di divieto di avvicinamento alle vittime Queste ultime sarebbero degenti che si trovano in condizioni di incapacità e inferiorità fisica o psichica ricoverate nel reparto femminile di psichiatria di lunga degenza e hanno tutte tra i 40 e i 60 anni Perquisiti oltre alle abitazioni dei 30 indagati anche gli uffici e i locali della struttura sanitaria oggetto di indagini i cui vertici non risultano indagati L'indagine coordinata dalla procura di Foggia ed iniziata la scorsa estate è stata condotta dai carabinieri del nucleo investigativo e del NAS Quello che emerge era innanzitutto la metodica attività di sopraffazione e di maltrattamento Tant'è che in alcune intercettazioni vi è anche una descrizione di come queste attività erano state fatte in passato Vi è anche l'indicazione dell'utilizzo che deve essere fatto di uno strumento per colpire le vittime Diciamo che quanto è stato verificato in sede di indagine ha turbato gli stessi militari che ascoltavano, che vedevano, che sentivano le intercettazioni Diciamo che le ipotesi accusatorie a cui sono state formulate hanno colpito molto i militari Sicuramente le attività hanno consentito di far emergere un'ipotesi della commissione di reati che ha un impatto emotivo piuttosto elevato A seguito di articolate indagini coordinate dalla direzione distrettuale antimafia di Potenza Condotte dalla squadra mobile della questura di Matera Dal commissariato di Policore e dalla direzione investigativa antimafia alla sezione operativa di Potenza Il GIP del Tribunale del Capoluogo Lucano ha disposto la custodia cautelare in carcere nei confronti di un 39enne residente a Scanzano Ionico Accusato di 5 incendi in altrettante strutture della costa ionica Sarebbe stato Davide Suriano, 39enne di Scanzano, l'autore dei 5 episodi incendiari avvenuti nel maggio del 2022 a Scanzano Ionico che avevano suscitato vasto allarme sociale nel territorio interessato Realizzati prevalentemente utilizzando materiale liquido infiammabile sono stati tutti realizzati in un lasso di tempo ridotto Si tratta di due dei dieci stabilimenti balneari presenti a Scanzano le proprietà di un ufficiale di polizia impegnato nelle indagini antimafia in quel contesto territoriale ed un opificio di proprietà della sua stessa famiglia realizzato da Suriano sia per depistare le indagini sia per estorcere denaro ai suoi familiari Le modalità eclatanti delle attività delittuose ascrivibili al Suriano hanno qualificato con tesi accolta dal GIP la sua azione di stampo mafioso Certamente è un soggetto che sulla base dei gravi indizi e salvo naturalmente il contraddittore dibattimentale che dovrà stabilire se diciamo una cosa esatta o meno è il profilo di un soggetto che nel giro di dieci giorni fa dei danni rilevantissimi che suscitano un grande allarme sociale che mettono in pericolo la stagione balneare in una località che vive anche di questo quale Scanzano Ionico quindi certamente è preoccupante e del resto proprio in considerazione di questa personalità il giudice ha disposto la custodia cautelare in carcere Ma il momento si ruota intorno alle guardianie delle attività economiche in questo caso balneari ma non solo Andiamo dunque a vedere la prima pagina della Gazzetta di Basilicata Potenza e Matera come l'articolo che guadagna la parte alta tratta la questione Direzione distrettuale antimafia ha arrestato il presunto autore Davide Sturiano di Policoro cane sciolto o braccio armato di un'organizzazione criminale la domanda si indaga su eventuali complicità Incendio di Lidi e aziende a Scanzano Ionico Estorsioni, vendette e guardiania contesa Ed allora nel dettaglio l'articolo di Brancati e De Vito è accusato di essere l'autore di 5 incendi a stabilimenti balneari e dopifici avvenuti nel maggio del 2022 a Scanzano Ionico è finito in carcere Davide Sturiano 39 anni di Policoro nell'ambito di un'inchiesta della Direzione distrettuale antimafia richieste estorsive di danaro di 10.000 euro al proprietario di una struttura balneare di 9.000 euro e componenti della stessa famiglia risentimenti e vendette personali conti in sospeso per l'attività di guardiania sono questi alcuni degli elementi emersi dal quadro indiziario a carico di Suriano fondamentali per arrivare all'arresto di Suriano sono state le attività di intercettazione ambientale telefonica ed il monitoraggio dei social mentre è stata definita dal procuratore Curcio un colpo di fortuna l'esistenza sull'autovettura di proprietà del sistema rilevazione satellitare rilasciato dalle compagnie di assicurazione che ha collocato il suo mezzo nei pressi delle attività danneggiate Continuiamo su questa prima pagina la polemica nei locali ora ci vivono gli abusivi parliamo di casa domotica pronta da sei anni ma inutilizzata atere comune di potenza impantanati sulla gestione il caso senise senza acqua dopo i danni al Frida residenti in difficoltà per quanto riguarda la salute c'è la corte dei conti che analizza la sanità in Basilicata il lavoro in dieci mesi persi 43.000 rapporti di lavoro in Basilicata sapori lucani anche in questa prima pagina due gelaterie di Pignola e Martea tra le migliori d'Italia e a Matera le fioccano le date di concerti estivi location in stand by Cava del Sole attende ancora l'autorizzazione la foto è della Cava e dunque questa qui che vi mostriamo andiamo avanti parliamo ora di detenzione e spaccio di droga arrestate ad Alberobello 4 persone la città dei Trugli era diventata il punto di riferimento per tanti assuntori tra cui minorenni a cui gli indagati vendevano droghe sintetiche i carabinieri della stazione di Alberobello coadiuvati dai militari del nucleo cinofili di Modugno hanno arrestato quattro persone per i reati di detenzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti si tratta di uomini di età compresa tra i 24 e i 40 anni il provvedimento giunge all'esito di un'accurata attività di indagine partita da un controllo eseguito nel centro della città dei Trulli dove un giovane era stato sorpreso in possesso di un modesto quantitativo di marijuana a quel punto con l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria si avviarono le verifiche attività tecniche e mirati servizi di osservazione e controllo riuscendo a documentare una serie di episodi di acquisto, cessione e offerta in vendita di cocaina, eroina, hashish, marijuana, ketamina e metadone dalle indagini svolte tra i mesi di gennaio e dicembre del 2021 è emerso che grazie anche alla possibilità di scelta tra i diversi tipi di droghe quel centro è stato il punto di riferimento per tanti assuntori tra cui minorenni provenienti anche dai comuni vicini talvolta eludendo le norme sugli spostamenti dettate dalla legislazione di contrasto alla diffusione del covid in vigore in quel periodo con questa operazione è stata interrotta un'attività illegale diventata anche molto insidiosa e pericolosa soprattutto per l'accessione di droghe sintetiche ai minorenni considerato che è stato accertato anche un caso di overdose i quattro indagati si trovano ora in carcere in attesa dell'interrogatorio di garanzia e del confronto con la difesa per accertare la loro colpevolezza prima pagina del nuovo quotidiano di Puglia dedicata a Bari due conti in tasca all'autonomia qui arrivano 31 miliardi in meno il raffronto con la Lombardia per sanità scuola e imprese pubbliche accuse dalla CGL Robin Hood dunque al contrario vi è scritto nell'articolo che toglie ai poveri per dare ai ricchi la CGL Puglia incalza la politica e rilancia il profondo allarme legato alla riforma sull'autonomia differenziata il segretario regionale Pino Gesmundo usa al 13esimo congresso regionale parole durissime contro il DDL Calderoli i dati in pillole 31 miliardi in meno alla Puglia rispetto alla Lombardia per sanità scuola e imprese pubbliche la proposta a Bronzini-Atenei prime adesioni per una rete pugliese sì da Regione e Anvur via libera a De Santis la rinuncia di Stefano Minerva resto in provincia no alla segreteria PD il caro energia ASL più 220% per luce e gas ora un piano anti sprechi dati shock dunque a causa del caro bollette nel 2022 l'ASL Bari ha speso per luce e gas il 220% in più rispetto all'anno precedente per un totale di 31 milioni di euro i vertici corrono ai ripari con un piano di monitoraggio in tempo reale per ridurre gli sprechi Baritec la caparra non c'è in bilico vendita e 113 posti il centro pagina poi parla di obiettivo sicurezza investimenti per 5 milioni e c'è dunque l'elenco degli investimenti cantieri di notte nuovo asfalto in 36 strade ripartono insomma i lavori in città con i cantieri notturni arriva il nuovo asfalto con i cantieri per creare meno disagi al traffico la mappa degli interventi include 36 strade da rifare in molti cantieri della città per un investimento totale di 5 milioni di euro tra le arterie interessate ci sono via Leflacco, via Capruzzi e via Crispi interventi previsti anche per le piste ciclabili l'emergenza ferito al Libertà marciapiedi rotti cadute, feriti e proteste un altro episodio dunque che conferma l'emergenza marciapiedi rotti e malconci sempre più diffuse in alcuni quartieri di Bari l'ultimo episodio al quartiere Libertà dove un anziano è caduto ed è finito in ospedale crescono gli incidenti, i disagi e le proteste si parla di turismo nella parte bassa il verdetto degli utenti del portale la città più accogliente del mondo Polignano incoronata da booking Acquaviva 8 aerodegeneratori a ridosso del Miulli Paleoli che c'è un nuovo progetto non le vogliamo stop all'invasione la finanza poi ha corato fotovoltaico con i permessi truccati si parla di una maxi truffa da 3 milioni di euro ci spostiamo momentaneamente nel Brindisino lo abbiamo già letto sarà l'autopsia a stabilire le cause della morte di Daniele Massaro il musicista latanese di 43 anni è deceduto per strada martedì mattina ad Ostuni amava la musica etnica e con il suo storico gruppo reggae gli Scamnum era rientrato da poco da una tournée in Arabia Saudita dove aveva portato la musica popolare salentina a Riad Daniele Massaro è morto all'improvviso per strada a Ostuni pochi minuti dopo essere uscito dall'ambulatorio del suo medico curante aveva 43 anni e godeva di ottima salute ma domenica aveva avvertito un malore e si era recato al pronto soccorso dell'ospedale di Ostuni poi era tornato a casa pare con una terapia farmacologica da seguire la procura vuole vederci chiaro e ha disposto il sequestro della salma presso l'obitorio del cimitero di Ostuni in attesa di effettuare l'esame otoptico che sarà affidato al medico legale Angelo Lanzillotti martedì mattina Massaro era uscito pochi minuti prima dall'ambulatorio del suo medico in via Giovanni XXIII a Ostuni quando si è accasciato sul volante della sua auto alcuni passanti hanno dato l'allarme sul posto sono intervenute tre ambulanze del 118 e per circa un'ora i sanitari hanno cercato di rianimarlo è stato tutto inutile la notizia dell'improvvisa morte di Massaro ha scioccato la comunità di Latiano suo comune d'origine oltre che per le sue doti di ottimo musicista era noto per il suo impegno ambientalista e come assessore comunale alla fine del primo decennio 2000 nella giunta di Graziano Zizi Salta il vertice previsto in CDM con la presentazione del disegno di legge sull'autonomia differenziata aumentano gli attriti nel centro-destra il punto sulla politica nazionale di Francesco Manigrasso Le autonomie hanno un loro percorso e io ne ho un altro ma è chiaro che poi la maggioranza è coesa sull'una e sull'altro non ci sono problemi di sort Salta il vertice tecnico sull'autonomia differenziata da presentare al Consiglio dei Ministri lo stop pare sia arrivato proprio dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni non corriamo troppo occorrono prima dei passaggi tecnici e al massimo possiamo discuterne in un pre-CDM ma non questa settimana non bisogna mai correre però bisogna darsi dei tempi e credo che i tempi siano doverosi e il Consiglio dei Ministri io credo che rapidamente deciderà di consegnare al Parlamento un disegno di legge sull'autonomia differenziata in modo poi da utilizzare il confronto tra maggioranza e opposizione per migliorare la cosa importante è che le riforme non si fanno mai a colpi di maggioranza il voto in Lombardia e in Lazio secondo gli alleati nella maggioranza non può accelerare il progetto di riforma avvallato in primis dagli esponenti del Carroccio per tutti rimane comunque imprescindibile definire i LEP per evitare squilibri fra le regioni e quindi arrivare all'approvazione della riforma cominciamo a guardarla senza pregiudizio il resto sono solo polemiche politiche di chi non vuole sostanzialmente forse portare avanti un percorso federalista che questo paese ha necessità e bisogno se vogliamo progredire se invece vogliamo regredire continuiamo col centralismo iper centralismo che ha portato negli anni sempre più ad allargare il divario tra nord e sud per le opposizioni però il disegno di legge di Calderoli fotografa le disuguaglianze territoriali che già esistono che hanno colpito duramente il sud servono prima stabilire livelli di servizi che devono essere uguali in tutta Italia dopodiché si può delegare devolvere alle regioni alcune funzioni ma se non si fa prima questo passaggio a risentirne e a pagare il prezzo tutto il paese non è solo un pezzo del paese il progetto di Calderoli pensa che immagina regioni che abbiano competenze diverse l'una dall'altra a secondo di quello che possono chiedere ecco una disgregazione dell'Italia mi chiedo a chi ha fatto del patriottismo come la Meloni come lo può accettare sono veramente separati in casa andiamo dunque sulla prima pagina ci torniamo un attimo sulla prima pagina del nuovo quotidiano di Puglia dedicato a Lecce perché ci sono dunque i numeri quelli che vengono definiti due conti in tasca all'autonomia proprio in riferimento alla presentazione del disegno di legge sull'autonomia differenziata c'è dunque il raffronto con la Lombardia per sanità, scuole, imprese pubbliche le accuse arrivano dalla CGL perché si parla di 31 miliardi in meno rispetto alla Lombardia appunto per i comparti di sanità, scuola e imprese pubbliche proseguiamo su questa prima pagina la proposta di Bronzini relativamente agli Atenei le prime adesioni per una rete pugliese arriva il sì da Regione e Anvur c'è il via libera a De Santis perché c'è la rinuncia di Stefano Minerva che ha dichiarato resto in provincia lui il presidente della provincia di Lecce no dunque alla segreteria PD e allora proprio a tal proposito andiamo ad ascoltare il nostro servizio del collega Antonio Bucci perché il sindaco di Gallipoli appunto Stefano Minerva sembrava essere un po' più vicino alla poltrona più alta di via Reddavi dalla segreteria regionale Dedem Pugliesi il partito tenta l'accordo altri pochi giorni di tempo per il deposito ufficiale delle candidature ascoltiamo Stefano Minerva un po' più vicino alla poltrona più alta di via Reddavi alla segreteria regionale del PD pugliese il partito tenta l'accordo avrà altri tre giorni di tempo per il deposito ufficiale delle candidature a citare il nome del sindaco di Gallipoli e presidente della provincia di Lecce era stato il governatore Michele Emiliano durante l'ultima visita salentina di Stefano Bonaccini aggiungendo la variabile territoriale legata al contrappeso geografico delle federazioni tutto risolto? non ancora dal momento che se la vicinanza al collega in consiglio Donato Metallo oltre a lungo apprendistato tra i giovani Dem gli garantirebbe la sponda degli uomini più vicini al sindaco del capoluogo Antonio De Caro e l'incarico di numero uno a Palazzo dei Celestini a renderlo incompatibile per statuto risultato le dimissioni oppure una deroga che però andrebbe chiesta è ottenuta diversamente candidatura unitaria potrebbe essere quella del barese Domenico De Santis vice capo di gabinetto di Emiliano in Regione ruolo che fa storcere il naso a più di qualcuno ma tecnicamente non ostativo difficile in compenso che si arrivi alla prova delle urne con un solo nome l'area che fa capo a Gianni Cooperlo infatti potrebbe ugualmente decidere di schierarne uno sulla griglia di partenza il prefetto di potenza Michele Campanaro ha convocato in prefettura una riunione del centro coordinamento soccorsi per fare il punto sulle criticità connesse alle ultime avversità atmosferiche il prefetto di potenza Michele Campanaro ha convocato in prefettura una riunione del centro coordinamento soccorsi per fare un punto sulla situazione legata alle criticità connesse alle ultime avversità meteorologiche alla riunione sono stati invitati a partecipare oltre alle componenti del sistema di protezione civile anche gli amministratori locali dei comuni maggiormente coinvolti dalle avverse condizioni meteo verificatesi sul territorio della provincia di potenza nei giorni scorsi beh in questo momento in verità c'è una tregua dal cattivo tempo per cui alle spalle il periodo più complesso legato alle precipitazioni piovose e ai due giorni di neve questa è l'occasione per fare un punto di situazione che ovviamente interessa principalmente il sistema della viabilità abbiamo appena completato una riunione del comitato operativo per la viabilità e quindi adesso portiamo sul tavolo del centro di coordinamento dei soccorsi le proposte che vengono dalla COVA le confrontiamo anche con i sindaci dei territori dell'area prevalentemente quella sud occidentale del territorio che è stata messa a dura prova perché ovviamente è necessario che sul sistema di controllo della rete viaria delle strade ci sia l'impegno e la compartecipazione di tutti gli attori che abbiamo pianificato nei mesi scorsi e che come dire in questi giorni è stata messa alla prova Andiamo dunque avanti il presidente di Puglia Michele Emiliano incontra la console generale USA Il presidente della regione Puglia Michele Emiliano ha incontrato a Bari nella sede della presidenza la consola generale degli Stati Uniti d'America a Napoli Tracy Roberts Pounds presenti all'incontro l'assessore regionale allo sviluppo economico Alessandro Dellinoci il consigliere del presidente Claudio Stefanazzi una delegazione della sezione politico-economica del Consolato generale USA a Napoli con a capo il console Charles Lobdel Un'antica amicizia e una tradizione quella della Puglia che attraverso il Consolato generale di Napoli mantiene i rapporti molto interessanti con tutta la diplomazia americana fatto sapere il presidente della regione Emiliano oltre ai forti legami culturali favoriti dalla presidenza negli Stati Uniti di numerose comunità pugliesi detto la console Roberts Pounds in questa regione si sono sviluppate e consolidate partnership commerciali importanti oggi è il mio primo viaggio alla bellissima Puglia da sempre negli Stati Uniti e dall'Italia abbiamo condiviso una lunga storia insieme e oggi abbiamo parlato degli figli della Puglia che hanno fatto un bel impatto negli Stati Uniti ma più importante io credo è di parlare di come noi possiamo crescere in più la nostra relazione economica e culturale abbiamo affrontato tanti argomenti che ci auguriamo a breve possano dare buoni risultati innanzitutto per i rapporti tra i nostri due paesi e poi ovviamente per contribuire a costruire la pace, la democrazia e la giustizia in tutto il mondo le alleanze vadano anche strutturate nel quotidiano, nelle cose di tutti i giorni e che non siano solo cose per i grandi governanti ma devono essere alleanze tra i popoli e tra la gente Andiamo dunque a vedere cosa propone il nostro sito una notizia battuta dalla collega Laura Milano incidente sul lavoro a Manduri, operaio ventenne in gravissime condizioni un grave incidente sul lavoro nella città messapica un operaio di vent'anni e precipitato dal tetto di un capannone presente nella zona industriale le sue condizioni sarebbero ora molto gravi l'incidente si sarebbe verificato sabato scorso ma la notizia si apprende a distanza di qualche giorno proprio a causa del peggioramento delle condizioni generali dell'operaio che avrebbe riportato delle ferite al cranio e danni al volto non si conosce ancora l'esatta dinamica dell'accaduto sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 che subito dopo hanno trasportato il giovane nell'ospedale Santissima Annunziata di Taranto dove al momento ricoverato questo è quanto trovate dunque sul sito www.antennasud.com nella sezione dedicata a Taranto e alla sua provincia battuto appunto dalla collega Laura Milano ed ancora Taranto si sono svolti ieri pomeriggio a Massafra e a Martina Franca i funerali dei tre ragazzi morti domenica sera sulla strada che congiunge le due cittadine in un tragico incidente stradale due funerali, due chiese, lo stesso identico dolore due città, due cerimonie funebri, le stesse lacrime lo stesso identico dolore Massafra e Martina Franca hanno salutato negli stessi minuti i tre ragazzi periti nella serata di domenica in un tragico incidente sulla provinciale 102 la strada che congiunge le due cittadine Massafra ha pronunciato l'addio ad Antonella e Leonardo Carucci fratello e sorella di 13 e 19 anni nella chiesa di San Francesco di Paola l'intera cittadina ha testimoniato il proprio affetto alla famiglia popolando i banchi, il sagrato, l'intera piazza presenti il sindaco Fabrizio IV che ha dichiarato il lutto cittadino la giunta a tanti consiglieri comunali nel corso della cerimonia ufficiata da tutti i sacerdoti delle chiese massafresi il paroco Don Giuseppe Oliva ha ricordato la gentilezza e la signorilità di Leonardo la simpatia e l'allegria travolgente di Antonella e ha chiesto a tutti nella sua omelia di non chiedersi perché le cose avvengono pensando invece a come andare avanti nel silenzio lontano dalle tastiere dei telefonini e dei social tra la commozione e le lacrime le bare bianche di Antonella e Leonardo hanno lasciato la piazza al suono della musica di una banda mentre volavano i palloncini bianchi la comunità martinese ha ricordato invece Leoconte 20 anni che era la guida dell'automobile nella chiesa della Santa Famiglia il rito è stato ufficiato da Don Pasquale Morelli e Don Diego Semeraro tra i banchi gremiti gli ex compagni di scuola di Leo e il sindaco Gianfranco Palmisano per un giorno Antonella, Leonardo e Leo sono stati i figli, i fratelli, i nipoti di tutti di due cittadine che non li dimenticheranno nuovamente in diretta siamo a Taranto nel Tarantino avrebbe tentato di investire un carabiniere un arresto a Crispiano avrebbe tentato di investire un carabiniere forzando un posto di blocco a Crispiano ne è nato un inseguimento conclusosi con l'arresto di un 37enne di Statte da parte dei carabinieri della compagnia di Massafra in particolare all'alt dei militari l'uomo invece di accostare e fermare l'auto per un controllo di routine avrebbe accelerato costringendo uno dei due carabinieri a spostarsi in tutta fretta per evitare di essere travolto da qui la tentata fuga dell'uomo a tutta velocità nel centro abitato di Crispiano mettendo in pericolo la sicurezza di automobilisti e pedoni per poi essere raggiunto e fermato dagli uomini dell'arma l'uomo è ristretto ai domiciliari dovrà difendersi dall'accusa di resistenza a pubblico ufficiale vediamo dunque cosa propone la prima pagina del quotidiano di Puglia dedicata a Taranto il decreto lo scudo penale e il Tar Morselli alza il tiro e va all'attacco il siderurgico in primo piano la D di Acciaierie d'Italia in Senato garanzie legali da estendere e giurisdizione a Roma Lucia Morselli dunque amministratore e delegato di Acciaierie d'Italia chiede di estendere la garanzia dell'ex silva le norme dell'ultimo decreto e quanto riferito ieri in Commissione Industria al Senato tante le richieste l'estensione delle norme sul sequestro anche nei casi in cui è stata anche negata la revoca la giurisdizione del Tar Roma il rischio incostituzionalità dell'articolo 2 sull'amministrazione straordinaria Rinaldo Melucci il primo cittadino di Taranto dice subito l'accordo di programma per la transizione anche questa prima pagina dedicata a Taranto vediamo c'è la questione politica la rinuncia di Stefano Minerva che resta dunque in provincia lo abbiamo ascoltato prima a cura del collega Leo Spalluto ieri a Massafra e Martina i funerali per le vittime dell'incidente tre ragazzi morti e due città sconvolte sono stati celebrati ieri a Massafra e a Martina i funerali per le tre vittime dell'incidente di domenica scorsa in cui hanno perso la vita fratelli Antonella e Leonardo Carucci di Massafra il loro amico Leo Conte di Martina Franca due comunità in lutto segnate da una tragedia spaventosa commovente il saluto degli amichetti della piccola Antonella di 13 anni infortunio sul lavoro precipita dal tetto un 22enne in coma un terribile incidente sul lavoro a Manduria mentre si trovava sul tetto di un capannone un 22enne precipitato al suolo battendo il capo riportando un trauma cranico con interessamento cerebrale il ragazzo è in coma scontro su una mozione presentata in consiglio fratelli d'Italia no alla cittadinanza inclusiva la replica una misura di civiltà bengalesi aggrediti e rapinati arrestati i quattro tarantini presi dalla polizia di stato vigilia delle elezioni segnata dalla confusione si parla dell'ordine degli avvocati che caos quattro incandidabili anzi no ed allora ci spostiamo velocemente a Brindisi perché è iniziato davanti al tribunale di Brindisi il processo contro il cardiologo dell'ospedale Antonio Perrino agli arresti domiciliari insieme a quattro imprenditori la ASL si è costituita parte civile la ASL di Brindisi si è costituita parte civile nel processo contro Domenico Palmisano il cardiologo dell'ospedale Perrino tuttora agli arresti domiciliari con l'accusa di aver favorito alcuni imprenditori del settore sanitario in cambio di cospicue somme di denaro o di regali la prima udienza del dibattimento si è svolta davanti ai giudici della sezione penale del tribunale di Brindisi insieme al medico sono imputati gli imprenditori Massimo Gabriele Andrea Tantalo Davide Lazzazzara e Domenico Brunetti così come per il cardiologo anche gli altri quattro agli arresti domiciliari sono stati autorizzati dal presidente Maurizio Sasso a raggiungere il tribunale senza essere accompagnati dalle forze dell'ordine i giudici hanno respinto la richiesta della difesa di Palmisano di disporre una perizia collegiale per stabilire se è vero che l'imputato abbia sperperato i fondi dell'ASL per acquistare dispositivi sanitari in esubero o non necessari nel reparto di cardiologia dal 2017 al 2020 si torna in aula il 13 febbraio per il conferimento delle trascrizioni delle intercettazioni telefoniche e dal 27 il processo entrerà nel merito con cadenza quindicinale intanto il 16 marzo i giudici della Corte di Cassazione valuteranno l'istanza di revoca degli arresti domiciliari presentata dai difensori di Palmisano è stato ascoltato dai poliziotti di Lecce lo sciamano compagno della donna trovata morta insieme alla madre a Roma non è indagato ed è stato ascoltato dai poliziotti di Lecce solo come persona informata dei fatti lo sciamano di Taurisano coinvolto nella terribile storia della morte di due donne a Roma madre e figlia in casa segni e oggetti collegati all'attività esoterica come sedute spiridiche poiché una delle due era la compagna del Salentino a capo di una setta oltre all'esito dell'autopsia utili alle indagini saranno le analisi sui dispositivi elettronici della donna e probabilmente anche dell'uomo che ha consegnato spontaneamente ai poliziotti il suo telefono cellulare ma per poter eseguire gli accertamenti potrebbe essere iscritto nel registro degli indagati come atto dovuto non era l'ex compagno ma era il compagno della signora Luana quindi erano ancora fidanzati sì assolutamente sì il suo atteggiamento è assolutamente collaborativo stato che abbia messo a disposizione degli uffici anche il suo cellulare ora bisogna vedere bisogna andare cauti perché bisogna vedere se questo coinvolgimento è un coinvolgimento diretto oppure è un coinvolgimento che va soltanto nella sfera della fragilità psichica ed emotiva di queste due donne molto lo diranno gli esami autoptici innanzitutto l'esame informatico è sicuramente tecnico sugli apparati quindi sui cellulari sul whatsapp sulle mail sui pc sui diari perché molte volte in questo settarismo ci sono dei diari che vengono scritti e su quello che si troverà andrà fatto un punto di congiunzione per escludere la responsabilità dello sciamano non si può fare il nome ma così si amava farsi definire oppure se è totalmente estraneo a questo certo è che l'influenza di quest'uomo ha sicuramente caratterizzato gli ultimi anni di vita di queste due donne seggiolini divelti bagni distrutti pista ad atletica rovinata e vandalismo nel quartiere Patalini e la conta dei danni che si attribuisce ai tifosi della Cavese che domenica scorsa si sono presentati a Barletta in 500 creando problemi di ordine pubblico all'interno e all'esterno dello stadio Puttilli seggiolini divelti bagni distrutti pista ad atletica rovinata e vandalismo nel quartiere Patalini e la conta dei danni che si attribuisce ai tifosi della Cavese che domenica si sono presentati a Barletta in 500 unità creando problemi di ordine pubblico all'interno e all'esterno dello stadio Puttilli le immagini divulgate dal Barletta Calcio e dal sindaco Cosimo Cannito riassumono i danni ingenti di una domenica che ha visto i tifosi biancorossi dare spettacolo sugli spalti prima durante e dopo l'1-1 finale nel big match di Serie D diversi tifosi campani invece nonostante il tifo a partita in corso si sono macchiati del comportamento già condannato dal primo cittadino Barlettano e dal suo collega di Cava dei Tirreni Vincenzo Servalli il sindaco del comune salernitano infatti era presente al Puttilli e nel fine settimana si era anche raccomandato di vivere una giornata di sport e civiltà auspicio disatteso nel pomeriggio di domenica lo stesso Servalli ha poi commentato il comportamento dei tifosi cavesi direttamente sui social le azioni illecite di pochi fanno sfigurare un'intera città scrive il sindaco non esiste giustificazione per i danni arrecati questi selvaggi conclude Servalli sono ben lontani dai veri cavesi il comune di Barletta intanto è in contatto con Barsa l'azienda di servizi ambientali che detiene la gestione del Puttilli fino al 31 marzo 2023 per la conta dei danni e la conseguente manutenzione dell'impianto l'amministrazione comunale è pronta a rivalersi sul comune di Cava de Tireni l'edicola del sud dedicata alla BAT Barletta ha confronto grandi imprenditori e istituzioni su tematiche legate allo sviluppo economico del territorio gli industriali al prefetto puntiamo sulla sicurezza la BAT ha grandi potenzialità ma deve puntare sulla cultura imprenditoriale partendo dall'ordine pubblico è il messaggio che arriva dal quarto appuntamento di EISUD un ciclo di talk ideato da Fabio Mazzocca e promosso dai del sud Italia per approfondire tematiche di grande rilevanza per il territorio nell'incontro a Barletta tutti concordi sulla capacità di sviluppo dell'impresa della BAT a patto di maggiore sicurezza Abisceglie Confcommercio alternanza scuola lavoro il centro pagina è dedicato all'orrore a Foggia a 15 operatori arrestati per abusi sui pazienti un'immagine giustamente offuscata la clinica degli orrori è stata chiamata così a Trani le tavole itineranti della discordia mentre a Trani sempre il parkour educativo per gli studenti la parte bassa l'assemblea del CGL vigileremo su pronto soccorso e liste d'attesa verso il congresso DEM Puglia intesa nel PD De Santis segretario Minerva presidente ancora dunque politica e poi la stretta attualità ovvero lo stop ai rifornimenti perché benzinai in sciopero fino a domani sera anche se le sigle sindacali sono divise sulla durata e lo abbiamo proprio letto vigileremo su pronto soccorso e liste d'attesa e allora parliamo in qualche modo ancora di sanità di presidio del 118 perché si è svolto un incontro nel Brindisino ovvero proprio nella città adriatica a Brindisi tra gli esponenti di Fratelli d'Italia e la direzione dell'ASL sulla chiusura del presidio 118 al quartiere Casale e dopo un mese la postazione del 118 nonostante le rassicurazioni iniziali della stessa ASL ma anche del comune di Brindisi è rimasta chiusa è rimasta chiusa perché parrebbe che risolti problemi di natura tecnica bisogna disciplinare i rapporti tra ASL e il comune con un contratto di comodato quindi per quasi 25 giorni noi siamo rimasti scoperti con tutto il rischio che questo ha comportato in termini di sicurezza per i nostri cittadini per un problema giuridico tra l'ente ASL e il comune di Brindisi pare che sia stato già preparato devono solo portarlo in giunta e renderlo esecutivo non siamo qui per cercare responsabilità anzi ringraziamo il direttore generale per aver voluto prendere direttamente in mano la questione ci auguriamo che sia davvero solo e soltanto l'ultima settimana che queste tre zone importanti Casale Paradiso e Costa rimangono scoperte Iter burocratico dell'ospedale del nord barese ancora bloccato l'ASL BAT chiede un cofinanziamento di 18 milioni di euro alla regione Puglia ma i tempi si allungano nonostante gli accordi di novembre e dicembre lunedì nuovo appuntamento in commissione bilancio la progettazione economica del nuovo ospedale del nord barese incappa nella problematica dei fondi nuovo stop alle attività durante l'ultima seduta della commissione bilancio in regione che ha constatato la presenza di un progetto per la struttura che dovrebbe sorgere tra Biceglie e Molfetta ma anche l'assenza delle somme di denaro necessarie per avviare le pratiche burocratiche a sollevare la polemica il consigliere regionale Fabiano Amati che parla di uno scaricabarile tra la regione Puglia e l'ASL della sesta provincia pugliese il bando è pronto spiega il componente di azione ma quando la regione chiede di procedere con la gara l'ASL sottolinea la lacuna economica per Amati a pagare nelle spese sono i cittadini che si vedono rimbalzati in una sorta di ping pong tra azienda sanitaria e polo regionale la lacuna è pari a 18 milioni di euro quota necessaria affinché l'ASL possa avviare la gara a ciò si aggiunge la valutazione ministeriale senza la quale non è possibile procedere con il bando il 29 novembre l'ASL aveva chiesto alla regione un cofinanziamento per cominciare le operazioni burocratiche disponibilità al cofinanziamento confermata il 12 dicembre ma i tempi di attesa si allungano nonostante i continui contatti tra le parti la spesa complessiva originaria per la costruzione invece è di 192 milioni di euro di cui 182 cofinanziati dallo Stato e poco meno di 10 milioni a carico della regione lunedì prossimo nuovo confronto in commissione bilancio il direttore sanitario dell'ASL di Brindisi risponde ai dubbi sulla possibile chiusura del reparto nascite dell'ospedale Dario Camberlingo di Francavilla Fontana nessuna volontà di chiudere il reparto di ginecologia ostetricia del Camberlingo di Francavilla Fontana a rispondere alle preoccupazioni espresse dal centro-destra francavillese il direttore sanitario dell'ASL di Brindisi Vito Campanile che non nasconde però le problematiche di organico che ovviamente incidono nella gestione complessiva ad oggi nessun rischio per i cittadini quindi nonostante la precarietà del sistema sanitario pugliese Brindisino al momento non c'è nessuna preoccupazione per quello che riguarda la chiusura o almeno non c'è nessuna volontà di chiudere l'ostetricia di Francavilla Fontana c'è in generale una diciamo problemi di personale questo in generale ma questo non è un problema soltanto nostro è un problema che riguarda un po' tutta la regione anzi oserei dire anche a livello nazionale per il problema delle dotazioni organiche per insomma per una serie di motivazioni però al momento non c'è nessuna nessuna volontà diciamo di chiusura sicuramente c'è qualche criticità legato insomma delle situazioni contingenti dico anche che stiamo facendo veramente l'impossibile in ogni caso per cercare di reclutare ulteriore personale per coprire comunque le malattie ora abbiamo chiesto già da una settimana abbiamo chiesto tutte le graduatorie a tutte le asla della Puglia in maniera tale da poter attingere per appunto per le sostituzioni per coprire tutto il fabbisogno così come previsto in maniera tale da stare tranquilli e soprattutto da far lavorare anche un po' più serenamente gli operatori il presidente di confimprese demaniali interviene sulla riforma delle concessioni balneari in discussione dal governo evidenziando la politica risolva il problema senza bandiere ideologiche la fretta potrebbe causare dice danni irreversibili da troppi anni i balneari aspettano una riforma che regolamenti in modo certo e puntuale le concessioni demaniali marittime una questione che continua a essere al centro della discussione del governo con gli emendamenti dalla maggioranza che propone di prorogarle da 1 a 3 anni l'istituzione di un tavolo tecnico per completare la mappatura e la riforma del demanio marittimo quello che è certo è che per confimprese demaniali la politica deve risolvere il problema senza fretta e senza bandiere ideologiche abbiamo già inviato un appello al governo come confimprese demaniali nel fare attenzione per non creare dei danni irreversibili il timore è che si possa fare questa riforma in maniera frettolosa e che poi non vengano rispettati quelli che sono i sacrifici di chi è stato pioniere dell'impresa balneare il governo Draghi aveva chiesto una mappatura cioè capire quali sono le spiagge libere le spiagge concesse e quelle concedibili questa è una partita ancora che non si è chiusa e noi speriamo che si possa fare subito confimprese demaniali evidenzia poi la necessità che non tutte le concessioni marittime vengano messe in evidenza pubblica carattere europeo ma che ci sia una disciplina e soprattutto che non ci siano proroghe così secche che portano solo incertezza e per questo avanzato una proposta noi abbiamo detto che il concessionario uscente continua ad esercitare l'attività anche se diciamo è perdente nella possibile evidenza pubblica aspettando che il concessionario subentrante però possa avere tutte le regole e tutta la riforma completata ricordiamoci che la vigilanza la tutela e il servizio di una spiaggia oggi ha un interesse pubblico il porto di brindisi è destinato a crescere grazie alle infrastrutture in via di realizzazione il presidente dell'autorità di sistema portuale del mare adriatico Ugo Patroni Griffi commenta così il recente via libera del ministero dell'ambiente alla realizzazione della cassa di colmata la vasca di colmata è un'opera strategica per la crescita del porto di brindisi il presidente dell'autorità di sistema portuale del mare adriatico meridionale evidenzia così ai microfoni di antena sud l'importanza dell'infrastruttura ormai prossima alla realizzazione nei giorni scorsi come noto è giunto anche l'ok dalla commissione competente presso il ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica step fondamentale nel complesso ITER giunto ormai alla fase finale il mondo cambia le navi cambiano i traffici cambiano le merci cambiano i porti devono cambiare se no perdono traffico quel traffico che non può utilizzare scalare un porto cercherà un porto adeguato e oggi ci sono molti investitori ma anche molte compagnie che cercano porti che siano adeguati per livelli infrastrutturali banchine batimetrie arredi di banchina e tutto e via dicendo qui a brindisi accoglienti e funzionali accoglienti e funzionali ma soprattutto adeguate le navi cioè è il porto che si adegua alla nave qui a brindisi c'è una carenza infrastrutturale questa carenza infrastrutturale atavica può essere risolta attraverso delle realizzazioni di infrastrutture queste infrastrutture per l'80-90% a brindisi sono rette dalla cassa di colmata perché permette di dragare il porto e non solo permette di dragare le aree che verranno dedicate ai nuovi accosti di Santa Polinare quindi è l'opera che le regge non dico tutte ma le regge quasi tutte e quindi bisogna farla Dopo gli incontri pubblici dal 12 gennaio è ripartito il lavoro dell'Urban Transition Center di Taranto lo abbiamo dunque visitato per comprendere appieno ciò che viene svolto all'interno La transizione ecologica a Taranto ha un ente specificamente dedicato l'Urban Transition Center che nasce in seno all'amministrazione comunale e a sede proprio qui a Palazzo di Città questa mattina siamo venuti in una delle due giornate di riunione delle tre professioniste che lo compongono guidate dall'Avvocato Riso per meglio comprendere qual è il lavoro che si svolge riguarda la rigenerazione dell'Isola Madre riguarda la rigenerazione dei quartieri di Paolo VI della Salinella e la nostra attività di studio e di confronto e di supporto all'amministrazione e quindi fa anche opera di sintesi ma anche un modo per farlo conoscere la cittadinanza la Biennale come i giochi del Mediterraneo che sono tutti al nostro valio al nostro studio e al nostro approfondimento come sta andando il vostro lavoro su che cosa vi state focalizzando in questo momento stiamo facendo un lavoro di preparazione quindi stiamo raccogliendo tutte le informazioni sui progetti più importanti un lavoro di studio e di incontri partendo dal piano Taranto Futuro Prossimo che è stato implementato dalla regione Puglia si è implementato un piano di programmazione proprio sulla città di Taranto che si basa su tre driver di sviluppo che sono il mare la cultura e l'ambiente il nostro compito è quello di andare a monitorare innanzitutto lo stato dell'arte in relazione ai progetti e soprattutto raccontare alla cittadinanza in che modo si avvierà quel processo di transizione ci occupiamo ora di sport andiamo a leggere velocemente le prime pagine siamo sul Corriere dello Sport della Puglia Maite il Bari e la B il mio orgoglio in passato mi hanno fatto credere di non essere pronto ora sono felice la città merita di sognare spunta Dragovic per la difesa di Baroni il Lecce sul Drago titola questo centro pagina stamp in pole i giallorossi ci pensano e valutano alternative e allora la parte bassa parla il capitano foggia adesso non fermiamoci di Pasquale in vista della sfida contro il suo Pescara dice andremo lì con la convinzione di poter vincere il nuovo volto blitz del Taranto è fatta per Crecco il centrocampista arriva a titolo definitivo per lui garantisce anche Brocchi è straordinario farà benissimo dice per quanto riguarda il basket Brindisi regala grandi emozioni Vitucci Sigo della superimpresa contro Bologna prestazione pazzesca questo gruppo può fare tanto ed ancora un'altra prima pagina siamo sul Corriere dello Sport dopo il flop dell'Inter arriva la pesantissima sconfitta del Milan termina 4 a 0 Milano sparita una Lazio strepitosa Sarri fa felice anche Napoli Spalletti a più 12 all'Olimpico show bianco cialeste con Milinko Zuccagni Filippe e Luis Alberto Pioli parlare meno e lavorare di più Roma Zaniolo senza sconto no alla proposta dei rossoneri serve l'obbligo di riscatto incondizionato nessuna accelerazione del PSG Inter scrignar fino a giugno il difensore andrà via a costo zero il K.O. di Brozovic è molto pesante vediamo dunque la parte bassa il Can in gioco c'è la serie A l'azionista di maggioranza dice sentenza ingiusta e la Juve non è il problema noi tuteleremo gli interessi dei tifosi e di chiama il calcio ci difenderemo con fermezza la Juve non molla e prepara il prossimo futuro che non sarà soltanto sul campo naturalmente visto che le vicende giudiziarie incombono e poi i due intercettati a Milano di notte di Goss un po' di Goss evidentemente tra Berrettini e la Satta scoppia l'amore al forum ci fermiamo perché adesso è il momento dell'informazione sportiva nel dettaglio ci ritroviamo tra poco B miocco di Goss di Goss di Goss di Goss